Quindi la psicologia e la psichiatria sono state tenute ignominiosamente per il collo per via delle pillole. È qualcosa che è stata una preoccupazione crescente nella mente di tutti, perché almeno quello stigma di andare dagli specialisti è fortunatamente diminuito un po'. Ma il fatto che le persone vanno dagli psichiatri e gli vengono prescritti delle pillole è in qualche modo ancora lì. Lo dice me? Non sto denigrando la scienza. Ho detto, se le cose vanno male nella tua vita, è abbastanza brutto. Se ti deprimi, stai solo moltiplicando il problema. Per questo, gli attivisti stanno... anche tu? Ok. Ok, lo spiego. Capisco molto bene. Sono strettamente associato a diverse persone che sono nella professione. E ci sono molte persone, perché ogni giorno incontro migliaia di persone. Non tutte sono perfettamente sane. Molte di loro vanno fuori di testa. Hanno bisogno di aiuto medico e quant'altro. Non è che lo ignoriamo. Ma se non porti la responsabilità fondamentale in ogni essere umano, che la loro salute fisica e mentale è a fare loro, se non porti questo fin dall'infanzia, vedrai, molte più persone andranno fuori di testa. Non pensare che tutti siano patologicamente malati. No. Coloro che sono patologicamente malati, senza farmici per certi periodi, potrebbero non essere in grado di uscirne affatto. Alcuni di loro non ne usciranno mai. C'è anche questo. È un altro discorso. Ma stiamo parlando di tutte quelle pazzie di tipo marginale che abbiamo tutti. Qualcosa va storto. Posso anche condurmi alla depressione. Posso anche condurmi alla depressione. Qualcosa che voglio non accade. Tutti sono capaci di condurre a se stessi la depressione. Non è così? È possibile o no? Quindi quello che stai dicendo è che la depressione è una scelta. Voglio dire, è questo che stai dicendo? Pensi che la depressione sia una scelta? Per favore comprendi. Ci sono alcune persone che sono patologicamente malate. Le colpisce il loro malgrado. Ma molte di loro ci si spingono dentro. Supponi che diventi molto arrabbiato. Qual è l'espressione che usi? Mi fai diventare matto. Quindi consapevolmente, volontariamente, diventi matto perché ottieni qualche risultato nella società. Se continui a provarci, siccome la linea tra sanità mentale e follia è così sottile, se spingi, spingi, un giorno lavarcherai. Ci sono molte, molte, molte persone nel mondo che non sono necessariamente malate, sia fisicamente che mentalmente. Non parlo solo di malattia mentale. Sia fisicamente che mentalmente non è necessario che siano malate. Vedi, al momento, negli ultimi 50 anni, sono stati compiuti alcuni milioni di interventi cardiaci. Oggi i chirurghi ti dicono chiaramente che se smetti la carne rossa, se mangi il cibo giusto, se fai dell'esercizio, non arriverai sul tavolo operatorio. Questo è contro la tua cardiologia? Perché la psicologia è una professione così insicura? Assolutamente no. C'è un certo criterio diagnostico, quindi potrei essere triste, potrei essere estremamente triste. Ma questo non significa che sono depresso. Ho diritto alla mia tristezza. Chi? Per favore. E chi non sa questo? Sembro così ingenuo da non capire che qualcuno è triste e qualcuno è depresso. Ma è possibile che molte persone spingano se stesse in stati depressivi in certi momenti della propria vita e che le stesse persone ne siano anche uscite in un certo modo. Esiste? Migliaia di loro? Esiste o no? Molti di loro. Quindi, se dico che è possibile, non è necessario che tutti finiscano con delle sostanze chimiche. Forse va contro una particolare professione. Ma stiamo parlando per l'umanità. Giusto. Grazie, Sadhguru. Anche se non credo che Angeli sia pienamente convinta sulla direzione delle risposte. Le domande... Come fai a essere pienamente convinto o non convinto di un fatto? Se è un'opinione, puoi essere convinto o non convinto. è un fatto che molti di voi... Dico, molti di voi siete giovani, non avete visto molta vita, ma anche in questa poca vita che avete visto. Ci sono stati momenti in cui avete attraversato la vostra tristezza e siete diventati depressi per alcuni giorni? Vi è capitato? E la maggior parte di voi ne è uscita senza l'aiuto di nessuno? O forse con un amico o qualcuno che vi è un po' fatto da mentore? Lo avete fatto? Questi sono fatti. Queste non sono opinioni. Questi sono fatti.